Innanzitutto volevo ringraziare l'Avis per averci ospitato, per aver attraverso questo concerto e noi l'abbiamo fatto molto volentieri perché crediamo assolutamente in questa associazione, in quello che fa e in quello che promuove. Come tutti i concerti, quelli belli, quelli che piacciono, finiscono e le cose belle devono finire perché sennò non si saprebbe quali sono quelle belle e quelle brutte. Noi vogliamo finire con un bis particolare, creato a forza da una persona che pochi giorni fa purtroppo è scomparsa, prematuramente a 40 anni, gli avevo chiesto di scrivere un brano per questa occasione, ce l'ha scritto, mi ha mandato le parti e poi ho scoperto da Facebook che due giorni fa è morto di infarto e quindi questo bis è obbligo a dedicarlo a lui. Dal momento che io credo che quando si muore si va a stare a miglior vita, di conseguenza non dobbiamo essere tristi ma dobbiamo essere felici perché la vita al di là di questa è sicuramente migliore di questa, su questo non ci sono dubbi. Di conseguenza dedichiamo a Vincenzo Sorrentino questo brano, che è un brano di Natale e per questo abbiamo preparato una piccola sorpresa per rendere più divertente ancora questa esecuzione. Prego. Siamo a Natale e di conseguenza dobbiamo aiutarsi come Natale. Siamo a Natale e di conseguenza dobbiamo aiutarsi come Natale. Grazie. 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 Buon Natale. Grazie a tutti